Deathmatch a squadra e veterano! Stiamoci da parte! Stiamoci da parte! Soltato a terra! 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 In movimento! Drone di supporto alleato disponibile. Suspiti disponibili. Drone di supporto alleato disponibile. Un disturbo pronto a lancio. Ok, UAV assegnato. UAV di disturbo in posizione. UAV nemico. UAV nemico è a metà strada. Fate qualcosa. UAV nemico è a metà strada. UAV nemico. UAV nemico. UAV nemico. UAV nemico. Batterie di supporto alleato disponibile. Un disturbo di supporto alleato disponibile. Bersaglio di attalizioni. Cambio pericolosi. UAV nemico. UAV nemico. UAV nemico. Capito. UAV nemico. Nemico a terra Uomo a terra Drone di supporto alleato Stiamo perdendo Stiamo perdendo Stiamo perdendo Stiamo perdendo drone di supporto alleato disponibile abbiamo perso il comando siamo in vantaggio attimo, ben fatto